Buongiorno, bollettino di emergenza del coronavirus Emilia Romagna e che sia un buongiorno visto che oggi è il 18 e si ricomincia la fase 2. Per quanto riguarda i positivi sono 5.656 rispetto al giovedì precedente, 5.656 meno 196 rispetto a ieri, i guariti sono 17.603 più 233 rispetto a ieri, i deceduti sono in totale 3.973 più 13 rispetto a ieri, il numero verde da ricordare è l'800 033 033 e in particolare il numero verde di Piacenza 0523 317979. A Ravenna uno staff a contatto con un soggetto a rischio, Covid-19, una persona che lavorava in uno staff a rischio, il ristorante Sushi proprio quando è stato dato via libera alla riapertura ha dovuto chiudere. I popolari di Cesena dichiarano che l'attuale crisi è un'opportunità per ricominciare da capo e assicurarsi che il mondo post-emergenza sia sostenibile e giusto. Miro Cortini, Emilia Romagna, Radio Saius. Grazie. Grazie.